Maledetto cane! Come parlereste se foste dei messicani sospettosi? Perché? Lo saprei? E' sta pericoloso! E' sta pericoloso il perro del diablo! E' il perro? E' il burrito col perro! No! Non coño! Ombre! La pregunta! La pregunta! Mentiroso! Dovemmo comere il tacos? No! Por que dios? Por que dios? E' sta pericoloso! Pericoloso un par de cojones! Chiama José! E' sta col perro! E' sta col burrito no col perro! Coño! Primo episodio di messicani sospettosi! Por que dios? No!